voglio me lo tocco amore, mi devo perdere te mi faccio i tatuaggi, a me mi piace perdere te no no no, per sé ma si fa i soldi apposto si ma si fa a posto abbiamo fatto i sacrifici proprio perché c'erano i tatuaggi convinti convinti credo che tu vuoi fare io sono sicuro proprio che la moglie fa ci siamo convinti e però senza perdere tempo che ti ha parlato di cliente ti ha una cosa subito subito a me mi volesse fare qualcosa che riguarda la musica capito? perché lo sai a me la musica ti piace la musica? perché le tatuaggi si fanno quando uno ha una passione e allora le lingue si fanno un tatuaggio ti fanno esempio non hai con un microfono a fianco che c'è con un microfono a fianco? com'è che c'è con un microfono a fianco? che faccio una melodica no? ma non ti sei scema però ma non è che la canzone che sono lì facciamo strunzola la disciplina non puoi mettere dietro facciamo la disciplina facciamo la disciplina facciamo la disciplina facciamo la disciplina io faccio un parcheggiatore a me c'è una cosa che mi rappresenta io faccio una misura sulle macchine sulle macchine e quello è il problema che devo fare? una Ferrari? un Lamborghini? che tatuaggio adesso? tutti i tipi di macchine ti posso fare tutti i tipi di macchine facciamo quale macchina vuoi tu ma se come fai sette macchine a reterina e se vuoi dire una cosa a me no? i sette macchine come traggi posizionali con tre no no con il parcheggio non ti fai proprio il problema no no rimaneciate vicini nel parcheggio iérer shot ieri la roba la roba la cassa un bacone la città la città la città la città la città